buonasera a tutti benvenuti all'ottava puntata della rubrica 10 volte vino questa sera siamo vicini a natale e quindi quello di cui voglio parlarvi è il vino come regalo questa sera voglio proprio aiutarvi a scegliere le vostre bottiglie sotto l'albero e le bottiglie che potete regalare sotto l'albero di natale il vino è uno dei regali più facili da fare da ricevere diciamo che se voi regalate un vino che non piace comunque non fate un regalo sbagliato perché questo vino passerà di mano passerà e se lo scambieranno con tra amici vi assicuro che molti vini prima di arrivare alla persona che vengono che li beve passano molte mani perché vengono scambiati e magari non è un vino preferito magari uno preferisce il bianco piuttosto che il rosso e quindi e quindi se li scambiano ma è sempre un regalo molto gradito questa sera vi voglio dare cinque regole che se voi seguite a grandi linee non sbagliate regalo nel senso che riusciamo a fare un regalo che sia vino e che non venga passato troppo di mano quindi partiamo con le regole del regalo di natale vino la prima regola è magnum e qui ve ne prendo uno perché sono in un mercatino di natale anzi ve lo faccio vedere perché è bellissimo aspetta che non mi ricordo siamo nel mercatino di natale a casa mia chiaramente però però sempre un mercatino di natale e questa sera eccoci qua io sono sulla poltrona di babbo natale chiaramente e questa sera la prima regola è magnum magnum prendiamo ad esempio uno di questi ok qui siamo già a tre litri è molto più grande di un magnum però il magnum equivale circa sono un litro e mezzo quindi equivale esattamente a due bottiglie di vino in realtà che cosa succede con il magnum il magnum sembra sempre tanto grande quindi regalare un magnum a volte non sembrano due bottiglie di vino e regalare un magnum a volte sembrano tre quattro bottiglie di vino da sempre la sensazione di grande addirittura questa sensazione vi rende quasi irrilevante quello che c'è dentro la bottiglia quindi regalare un magnum è sempre una bottiglia perfetta vi consiglio queste dimensioni perché le potete trovare molto chip le potete trovare potete trovare dei magnum da 15 euro fino fino ai 2 300 euro chiaramente dipende da quello che scegliete ne trovate di ogni tipo queste sono per esempio tutti i formati magnum e li trovate veramente di ogni prezzo potete farlo un regalo che costa poco o relativamente tanto fa scena se il vino è buono è anche meglio ma se il vino non è di gran qualità l'importante ecco che non acquistate il prodotto al supermercato prodotti di seconda scelta perché questa è l'ottima idea per farlo passare di mano cioè per farsi rifiutare questo magnum seconda regola per non farsi rifiutare una bottiglia di vino come regalo per alcune ragioni alcune persone pensano che il rosso sia più complesso di un bianco per cui dovendo scegliere sotto natale molte persone preferiscono scegliere un rosso in questo modo non sbagliate tenete poi presente che questa è una regola un po vecchiotta secondo me perché adesso si segue più l'alimentazione nel senso che uno pensa magari che a natale o capodanno si faccia si predeliga del pesce piuttosto che della carne per cui si va a regalare un bianco per non sbagliarvi regalate una bollicina andiamo alla terza regola evitare quello che le persone disconoscono un mio amico è andato a casa di una sua amica e gli ha portato un moscato questa persona ha guardato la bottiglia l'unica cosa che ha capito che era una bottiglia di bollicine ma che non c'era scritto sopra champagne quindi l'ha appoggiata di fianco alla porta non l'ha neanche ringraziato e ha proseguito tranquillamente tutta la serata quindi questo per dirvi che non vuol dire che lo champagne è meglio del moscato ma dipende da chi andate a regalare la bottiglia mi raccomando non rischiate mai di regalare una bottiglia che loro disconoscono perché anche lo stesso amarone che può risultare a voi molto prestigioso se lo regalate a una persona che non sa solitamente che cos'è l'amarone è un peccato è un peccato qualunque cifra viate speso ragazzi quindi cerchiamo di evitare le cose particolari a meno che la persona che lo regalate sia amante del vino abituata a bere o magari un sommelier e quindi sicuramente preferisce le cose particolari la quarta regola bollicine per le feste ed ecco qui che torniamo un po su quello che vi stavo dicendo prima il rosso è meglio del bianco a volte sì però non vi preoccupate che con le bollicine non sbagliate mai e per cui sempre per il fatto che non dovete regalare bollicine che sono poco conosciute andiamo a promuovere in questo caso prosecco francia corta pranto doc champagne ok soliti nomi cosa è importante è importante che voi non regalate marche troppo conosciute perché altrimenti sanno quanto avete speso e soprattutto il packaging il packaging della bollicina è estremamente importante quindi mi raccomando scegliete una bolla che abbia una scatola carina perché i francesi sono molto bravi in questo i francesi hanno dei packaging straordinari gli italiani un po meno perché spendiamo un po meno per il packaging soprattutto vi metto nei panni ve lo dico da produttore però però cercate di scegliere un packaging carino siamo alla regola numero 5 evitare i set ok i set significa cavatappi bicchieri i gadget che vendono con il vino perché sicuramente il produttore è molto più soddisfatto del fatto che voi regalate una bottiglia di vino e siate curiosi della bottiglia e del contenuto piuttosto che dei suoi cavatappi dei suoi bicchieri della sua bull per cui il mio suggerimento per natale è di evitare i set regalate una buona bottiglia di vino evitate anche tutte le bottiglie nel cellophane a meno che non sia una bottiglia di crystal che poverino è speciale per cui anche se nel cellophane glielo facciamo passare ma evitate cortesemente le bottiglie nel cellophane grazie a tutti se vi è piaciuta la live condividete condividete perché siamo in live streaming siamo qui per voi ciao a tutti